Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, video importantissimo Come potete vedere finalmente è arrivata la webcam, questa è la mia nuova game station E da oggi, da oggi ci saranno delle grandi novità Innanzitutto, dai prossimi video ludici, quelli su YouTube ovviamente Ci sarà il riquadrino con la webcam e quindi il mio bel faccione Accanto a quello che state guardando, così in modo da interagire meglio Gioco, persona, persona, gioco E aumentare il livello del nostro momento video ludico In più, da oggi, da oggi pomeriggio, ore 16.30 Appuntatevelo, ci saranno live Live che verranno fatte sul violaceo fallaceo Ok? Cercatemi, il nome da cercare è Mr. Pokenjoy Tutto scritto in piccolo, tutto scritto attaccato Ok? Mi raccomando, cosa importantissima Mr. Pokenjoy sul violaceo fallaceo Quello viola, per intenderci meglio Ok? Vi aspetto perché ci saranno parecchie live La live di oggi ovviamente andremo in Battlespot Useremo un team Ieri ho contattato Hirofumi Kimura Ovvero il ragazzo che lo scorso anno è arrivato secondo al mondiale usando Umbreon L'ho contattato, mi ha prestato un team per la live di oggi Perché come sapete domani ci sarà Inizierà l'internazionale di maggio E io non ho voluto portare il team che userò all'internazionale di maggio Per la live di oggi Ovviamente lo porterò da domani Poi questo fine settimana Ci saranno i tre giorni dell'internazionale di maggio Lo giocheremo live sul violaceo fallaceo Quindi mi raccomando cercatemi MrPokenJoy è scritto in piccolo Guardate in descrizione perché trovate tutti i social Trovate come dovete scrivere su quello viola il nome per trovarmi Ci vediamo questa sera alle 16.30 Mi raccomando io vi aspetto Non mancate e siate pronti al divertimento Grazie per la visione